cari amici della Fishing Fashion benvenuti alla nuova serie di video che come da tempo abbiamo detto sulla pagina Facebook ci stiamo lavorando da circa due mesi e finalmente stanno uscendo i video. Come prima uscita siamo in un posto che io ho imparato ad amare in questi ultimi tempi ovvero la Toscana, più precisamente la zona liguarnese, zona che mi ha regalato tantissime emozioni per quanto riguarda Cacudaro Fishing e non solo. Che pesce andremo a incentivare? Gli scorpano principalmente, ma anche capitano spesso i cefalopodi, quindi polpi, seppie, ma in primis tentiamo lo scorforo, anche il grosso scorforo, perché in queste acque se più piccole i grossi scorfori ce n'è veramente un altro numero. Quindi ora direi che lasciamo parlare le immagini, parleremo poco di tecnica, ma sono sicuro che ne varrà la pena. Come al solito non ci possiamo azzeccare una giornata con il mezzo più buono, è logico, però anche questa è parte della pesca, c'è un forte vento da Nord-Ovest che ha raffreddato un po' con l'acqua e ha raffreddato della burrata. In conseguenza l'acqua è piuttosto uno sporco, ci stiamo avversando con approcci che riescono a muovere abbastanza acqua, per cui primis, shud e anche qualche upbait che poi magari vi faremo vedere come piccoli crank, vuoti. e stiamo cercando di battere le zone con i rifiutti d'acqua, per esempio. L'acqua è un bellissimo punto dove l'acqua sprea di 6 giri dei volte di più dove sicuramente i gamberetti e i piccoli pesciolini sono in difficoltà a muoversi, di conseguenza sono anche fatti le prede per i predatori. Quindi proviamo a fare una pesca anche, passatemi il termine, in balia della corrente, quindi lasciamo fluttuare l'esca in balia dell'acqua e che sono movimenti. Grazie! 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 Signori, come avevamo presupposto, possiamo avere a che fare anche con questi brutti rossi nel rockfishing che ha preso lo shud, come possiamo vedere? Bello! Bello! Non scorfano ma io non mi lamento assolutamente! Il mare è adatto e noi restituiamo! Ci siamo fermati un attimo per un modo tale da muoversi acqua ma anche avere un approccio, diciamo visivo, molto d'impatto. Il colore è molto sgargianto perché l'acqua purtroppo è quello che è e ci consente il periodo di borrazioni naturali. E abbiamo uscito anche approcci di Vigigedo un po' più leggeri, proprio per avere la maggior naturalezza possibile, perché stiamo pescando all'interno di un ormeggio, quindi siamo riparati dalla corrente. Se pescassimo fuori invece dovremmo aumentare di gran matura perché c'è una corrente di spallon fuori. Non demordiamo, la scelta è ancora lunga e sicuramente in questa notte qualche scorso non uscirà. La scelta è un'unica, la scelta è un po' più efficace, per fare la scelta è un paese. La scelta è un po' più calma e di due con. Per evitare le individ başbano, per fare la scelta è un po' più calma e di noi, per avere un po' più calma e di noi. Finalmente The King è arrivato Allora siamo al porto di Livorno Ma sera Troppo è uscito solo un pesce Anche se dai Io non mi lamento per niente essendo la prima volta Io sto pescando Al momento con Un Innesco Texas Perché stiamo pescando in mezzo al sasso Quindi cerco Di evitare di Sia incagliare che perdere testine Pescando con un Moemby Bianco Il fondale che ha occhio È almeno almeno 7-8 metri Perché L'esca ci mette parecchio a scendere Che dire Oggi è andato anche relativamente bene Rispetto a quello che pensavo Se non riuscite a prendere il polpo In aspettatrici Oggi fino arrivati E poi dopo Un bello scorpanino Dove pensavamo di prenderlo E infatti Abbiamo battuto un altro sconto Là in fondo Dove però Non abbiamo preso pesce Adesso ci siamo messi qui vicino ai traghetti Questi 7-8 metri d'acqua A vedere rasentando il muro Cosa c'è Quindi vediamo un po' Ciao E' un giorno a Livorno Stiamo tornati nello spot Dove ieri ci hanno regalato Già regalato lo scorpion Che abbiamo preso Che ha preso Riccardo Abbiamo scelto oggi Di iniziare la giornata Con approcci molto più Molto più piccoli Quindi piccoli Di piccoli grab Piccoli approcci Ma che comunque muovono un po' di acqua Perché comunque Un po' ravellata L'acqua sia piena E' molto meglio Rispetto al primo porto Dove abbiamo muovuto il polpo Una giornata è lunga Speriamo di far uscire Qualcun crocking Prima di sera Ad ora Allora Io è due giorni che sono qui Se lo devo prendere gli scorpali Non i polpi Che non bastano eh Per l'amor di dio Allora Allora Aiaia no Non ci può essere neanche Qua c'è una cosa interessante Di questo polpo Che ha un bel morso Di qualcosa Che Qua Ci ha provato Vedete? Sicuramente Non lo so Un Qualcosa Che ci ha provato Per mangiarselo Però Ci ha provato Il No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.